Nel 2021, come non mai, il tema della privacy e dell'utilizzo dei dati è sempre più caldo e avere una VPN può essere una soluzione molto utile per avere una connessione sicura e che tuteli i nostri dati. Tuttavia, ormai ci sono veramente moltissimi servizi che hanno dei prezzi più o meno variabili e che offrono delle funzionalità più o meno efficaci ed efficienti. Per questo motivo, chi è alle prime armi a volte può sentirsi disorientato e magari è portato a scegliere un prodotto totalmente gratuito che non prevede alcun tipo di abbonamento che spesso si rivela essere più rischioso di magari una rete pubblica di dubbia qualità. Per questo motivo oggi voglio parlarvi della mia esperienza con questa VPN, PrivadoVPN, che sto utilizzando già da diverso tempo e voglio spiegarvi quali sono i 5 motivi che mi hanno portato a scegliere questa VPN invece che le altre. Sigla! Ma prima di iniziare, come in ogni video, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link ai nostri canali Telegram di GeeksDeals dove trovate coupon, codice sconto, flash sale, errori di prezzo, il tutto per farvi risparmiare. Personalmente penso che nel 2021 avere una VPN sia una scelta quasi obbligata per evitare che il nostro provider internet possa collezionare tutti quelli che sono i nostri dati e tenere traccia delle nostre attività sul web e quindi proteggere quello che ad oggi viene definito il nuovo petrolio, i dati. Una VPN serve a proteggere la vostra privacy online inviando e ricevendo tutti i dati attraverso un tunnel crittografato. La maggior parte delle persone utilizza questo servizio per non diffondere le proprie informazioni in luoghi con wifi pubblico come bar, aeroporti o centri commerciali ma molti la utilizzano per nascondere le proprie posizioni, garantire la navigazione privata e molto altro ancora. A volte però ci sono alcune VPN che non richiedono alcun tipo di abbonamento e sono totalmente gratuite ma totalmente gratuite e spesso queste possono essere più pericolose delle reti pubbliche stesse perché collezionano i vostri dati e ne fanno un uso illecito e il tempo insomma ci ha insegnato che ci sono state diverse aziende che hanno fatto questo giochino sporco. E anche qui c'è un famoso detto che dice quando il servizio è gratuito allora il prodotto sei tu. Per questo motivo è bene utilizzare delle VPN affidabili e a pagamento anche perché ormai hanno un costo irrisorio praticamente meno di una birra al mese e possiamo proteggere quello che per noi è importantissimo i nostri dati e avere comunque una navigazione sicura. Per questo motivo siamo arrivati finalmente al punto vi dico quali sono stati i 5 motivi che mi hanno spinto a scegliere privato VPN. Il primo motivo è che utilizza dei server fisici e non virtuali questo significa maggior sicurezza. Sebbene per le aziende dei settori sia più veloce ed economico avere dei server virtuali per l'utente questo può provocare degli svantaggi come ad esempio avere una navigazione più lenta o minor sicurezza. Potrebbe essere infatti che a causa di un exploit qualcuno installi un malware su diverse macchine virtuali per cui l'utilizzo di server fisici garantisce maggiore affidabilità e velocità di navigazione. Privato VPN ne possiede a centinaia distribuiti tutto il mondo e con il loro servizio è possibile localizzarsi in 44 paesi differenti. Ovviamente potrete decidere voi il server più adatto alle vostre esigenze ma grazie alla funzione autoconnect sarà il sistema a scegliere in automatico quello più efficace ed efficiente. Il secondo motivo è che ha una politica no log quindi reale anonimità. Privato VPN ha infatti sede in Svizzera la quale ha delle leggi molto rigorose sulla protezione dei consumatori e tra le migliori attualmente presenti in giro per il mondo. Infatti il paese elvetico non fa parte di alcun accordo di sorveglianza internazionale e non richiede alle VPN di conservare il log dei dati degli utenti come invece fa l'Unione Europea. Per cui avere una VPN che sia realmente no log vi consente di mantenere la vostra anonimità in quanto non saranno conservati i registri della cronologia di navigazione o di attività. Il terzo motivo è la funzionalità Kill Switch. Questa feature prevede un monitoraggio costante della connessione alla VPN e blocca automaticamente la trasmissione di dati qualora il tuo dispositivo si disconnetta momentaneamente. Sebbene abbia riscontrato delle ottime performance e un aggancio ben saldo potrebbe sempre succedere che nel bel mezzo di un download o di un'operazione di lunga durata a causa del segnale debole si perda la connessione alla VPN. Beh Privado interviene proprio in questi momenti e blocca le operazioni di invio e ricezione dati per non rivelare il vostro reale indirizzo IP o consentire a terze parti di leggere i dati o ancora consentire all'ISP di registrare un log delle attività. Il quarto motivo è che il piano gratuito offre tantissime funzionalità. Questo punto è fondamentale perché attraverso il piano gratuito ho poi scelto di fare quello premium. Privado VPN ha un costo di appena 4,99€ al mese se si acquista l'abbonamento annuale ma è presente anche il piano gratuito con diverse limitazioni rispetto al piano premium che però offre comunque moltissime funzionalità. Abbiamo infatti 10GB di trasferimento dati ogni mese al termine potrete comunque rimanere connessi ma ad una velocità limitata avrete accesso a 13 server situati in 13 città diverse e 8 nazioni avrete accesso su qualsiasi dispositivo a patto che sia utilizzato su un device per volta mentre il premium consente di avere fino a 10 device connessi simultaneamente abbiamo supporto P2P, politica no log e protezione delle leggi svizzere sulla privacy, kill switch, network di server fisici e supporto 24-7. Avrete dunque un numero elevato di feature molto più interessante rispetto ad altri VPN a pagamento con server virtuali e soprattutto potrete utilizzarla su Windows, Android, Mac OS, iOS, Fire TV, Android TV e su tantissimi altri dispositivi e sistemi operativi tra cui anche Linux. Il quinto motivo è che è ottima per lo streaming, non abbiamo restrizioni geografiche o di velocità. Ho scelto privato VPN anche perché quando viaggio io utilizzo moltissimo i servizi di streaming e su alcune piattaforme a cui sono abbonato mi è successo di non aver trovato dei film o delle serie tv che stavo vedendo in Italia per cui localizzandomi lì ho risolto il problema. Inoltre per chi utilizza l'account gratuito si hanno 10GB di dati ad alta velocità e non castrati come accade su altre VPN. Ovviamente non sono supportate solo le classiche Netflix, Prime Video, Disney+, ma anche Dazone, Telegram, Discovery+, e tantissime piattaforme disponibili solo all'estero. Tra l'altro è possibile accedere al catalogo dei contenuti degli altri paesi semplicemente localizzandoci in quest'ultima e quindi vedere in anteprima serie tv o film. Questo video andava a riassumere un po' i 5 motivi per cui ho scelto privato VPN, ma sono curioso di sapere anche se voi attualmente state utilizzando una VPN o se siete intenzionati a farlo e principalmente cosa ci... No, no, ok, no, cosa ci fate non voglio saperlo. Scherzi a parte, qui sotto vi lascio il link al nostro articolo testuale che è molto più completo rispetto a quello video e inoltre vi lascio il link per registrarvi a privato VPN. Magari potete sfruttare inizialmente il piano gratuito se ancora non siete intenzionati a effettuare un abbonamento, ma vi dico che secondo me alla fine per 4,99€ al mese vale la pena essere più sicuri e tranquilli. Comunque, per questo video è veramente tutto. Vi ricordo di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video. Vado velocissimo quando faccio le conclusioni. Ormai verso... Ciao a tutti... Ormai sono macchinetta. Ciao a tutti da Leonardo per G-China.it Ciao a tutti.